Amici sto per intervistare un personaggio veramente incredibile che nella mia carriera ormai... Sì, scusate perché ho visto una persona che conosco. Carlo! Carlo! Ma è lui! Ma signor zombie, signor Carlo Zombie, buongiorno. Buongiorno, salve, come va? Tutto bene? Tutto bene, non mi aspettavo di vedere che la passare... No, ma io passavo, era lei che sta facendo qualcosa per il programma. Io non volevo imporre la mia presenza, stavo passando di qui per caso. Io passo tutti i giorni del fuori talico. Lavora qui in ufficio. Ah, lei lavora anche? No, mi scusi, nel senso che è ovvio che gli zombie lavorano, si sa, cioè l'immagine... No, io zombie, non faccia così. Lavora lei, quindi, sì. Ma scusi? Sì. Cioè, che cos'è sta frase? Ci stiamo passando per i fatti miei, neanche ci volevo venire qua. Adesso se io vengo qua e lei dice, ah, lei lavora anche perché? Cosa pensa allora? Noi pensa che siamo quelli che noi, quando ci manifestiamo, diciamo sempre e facciamo... No, no, no. Ma ecco, aia, aia, aia. Ma dove fa? Ma cosa fai? Ma ha preso una persona? No, è un passante. Tra l'altro, signor zombie, l'approfitto del fatto che è qui, lo sa che lei è amatissimo dei bambini? Sì. Lo sapeva? Ho visto, ho visto il programma, le letterine mi disegnano. Sì, la disegna. Mi disegna. Con questa faccia, tra l'altro. Quindi è particolare che i bambini... Come scusa, come ho detto? I bambini sono così, i bambini sono onesti, sono sinceri, quindi non è che la imbelletta, non la fanno così com'è. Questo volevo dire. Perché? Come sono? Lei? Eh? C'ha l'aspetto di... Di cosa? Ti aspetto? Di uno zoom... Di... Di uno cosa? Uno di questo. Detto con quel tono? Ma io ho detto il suo tono. Detto con quel tono? Ma il tono. Quindi lei pensa che noi siamo ancora quelli detti con quella faccia? No, no, no. Quelli che facciamo... Non ha mai fatto così. Ma mi faccia delle domande. Mi dica che ne so, qualsiasi politica, qualsiasi cosa. Di politica? Perché lei capisce di politica? No, no, nel senso che... Nel senso cosa? Nel senso che uno non si immagina che uno zombie... Io sono del PD. Ah, lei è del PD? Ah, lei è proprio del PD, PD. PD, PD. Quasi PC. Quasi PC. Quasi PC. Bene, complimenti. Quindi cosa vuol dire? Che mangiavamo i bambini? È comunista? Quindi può essere che lei... No, no, no. Lei sta dicendo che... No, no, no. Lei ha fatto tutto? No, ha fatto tutto da solo? No! 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 Che... E' pazienza? E' pazienza? E' pazienza? Evviva il PD! Evviva il PD! Così va meglio. Alm day a qui ten... E' pazienza. E' pazienza. E' pazienza. Già? Così mi socio.